Spesso il nostro modo di vivere la fede si discosta da quanto la parola di Dio ci comunica, e cade in due tranelli, in due trappole, in due menzogne. La prima, raccontata dal libro dei Giudici, ci dice che spesso desideriamo nella fede, nel nostro modo di razionarsi a Dio, un re, una guida, un riferimento. Ed è chiaro che per quanto possa avere una sua plausibilità questa richiesta, il riferimento non può non essere il Signore, il riferimento della nostra fede non può non essere Lui, perché qualunque riferimento umano noi cerchiamo, sempre sarà un inganno, sempre sarà una menzogna, perché avremo accanto una persona fragile, una persona con dei limiti che deluderà, per cui nella fede solo Lui e soltanto Lui, il Signore è il nostro riferimento. Nel Vangelo invece cadiamo in un'altra tentazione, abbiamo queste operai della vigna, chiamate in diversi momenti, in diversi orari, chiaramente chi lavora dalla prima ora si aspetta di più come ricompensa, in realtà alla fine anche loro ricevono un solo denaro e si lamentano. Qual è il problema? Il problema non è la ricompensa, il problema non è quanto riceviamo, perché abbiamo lavorato in più. La gioia è nel fatto che viviamo la nostra vita totalmente donata a Lui, cioè non stiamo qui a contrattare nella nostra fede la relazione con Dio, come Signore ho dato tanto, allora da te merito tanto, merito più amore, no, il fatto che serviamo il Signore e gioiamo che gli altri, pur avendo lavorato solo mezz'ora, solo un'ora, hanno lo stesso amore che noi percepiamo. Cos'è allora la vera fede in Cristo? Che solo Lui è il Signore e che servire il Signore è l'unica nostra ricompensa, la vera gioia. Buon amissio.